buongiorno a tutti e benvenuti ad un altro video extra la necessità di questo nuovo video nasce da un episodio che mi vede testimone diretto come ho detto ieri questi i fatti i figli della mia attuale compagna che sono due ragazzi di 25 28 anni erano in vacanza in sardegna a portocervo uno dei due in compagnia anche della sua fidanzata erano appena rientrati a roma quando uno dei due ha ricevuto una telefonata da una loro amica con la quale tutti e tre avevano trascorso una serata insieme qualche giorno prima questa amica gli comunicava che purtroppo era risultata positiva al covid e che quindi sarebbe stato opportuno che il tampone lo facessero anche loro per maggior tranquillità i ragazzi erano assolutamente asintomatici tutti senza febbre e si sentivano benissimo la mia compagna organizza subito il test rivolgendosi al laboratorio di una prestigiosa struttura di un'università privata accreditata romana che fa servizio anche a domicilio evidentemente a pagamento per effettuare i tamponi il più presto possibile l'appuntamento da parte del laboratorio le viene dato per il giorno seguente alle ore 15 il particolare è importante il giorno seguente a risveglio uno dei due figli comincia ad accusare qualche lieve sintomo essenzialmente un po di stanchezza a quel punto si misura la febbre che è a 37 e mezzo gli altri due ragazzi invece sempre perfetti arriva a casa il professionista per il tampone lo definisco in maniera vaga perché non so se fosse un tecnico o un medico in quanto mi è stato detto perché non c'ero non ero presente personalmente e non si è qualificato e al quale logicamente viene fatto presente che da qualche ora uno dei ragazzi aveva un piccolo rialzo termico e qui finisce il lungo cappello introduttivo e cominciano le cose strane cambio scena io in quel momento sono al mare dove sono andato con i miei figli dove mi trovo in questo momento il giorno prima del rientro dei ragazzi della sardegna e sono in spiaggia quando alle 15 e 37 ricevo un whatsapp dalla mia compagna meno male tutti negativi guardo l'orologio e scrivo scusa ma a che ora sono arrivati a fare il tampone non mi tornavano i conti se l'appuntamento era alle 15 come hanno fatto da casa che si trova all'euro a fare tre tamponi ritornare al laboratorio la struttura si trova sulla trionfale che per i non romani in una giornata festiva e in assenza di traffico vista dall'euro non meno di 25 minuti processare i tamponi tempo tecnico per farlo tre ore e mezza e fornire risultati erano passati meno di 40 minuti da quello che io sapevo fosse il loro appuntamento la risposta è stata puntuale alle 15 sono appena andati via a quel punto telefono le esprimo le mie perplessità sull'impossibilità di ottenere il risultato in così poco tempo e le chiedo di raccontarmi come è avvenuta la procedura e come hanno fatto a dare un risponso immediato dopo un tampone raffaella mi spiega che il test è stato fatto tipo quello sierologico rapido per intenderci è stato c'è fatto il tampone ma solo nasale quello in gola quello che tecnicamente si chiama oro faringeo no ha preso il contenitore del tampone all'interno del quale c'era un po di liquido verosimilmente il reagente ha immerso il tampone e dopo pochi secondi ha dato il risultato ma che tipo di analisi è mi sono domandato un test rapido per il tampone io le esprimo ancora le mie perplessità non sono un tuttologo non posso sapere tutto e quindi chiedo tempo per documentarmi in proposito raffaella prosegue però nel racconto dicendomi che la fidanzata del figlio ad un primo test era risultata positiva ma con un dubbio hanno allora ripetuto il tampone e il secondo test è risultato questa volta negativo lo hanno ripetuto quindi una terza volta e ancora una volta è venuto fuori negativo risponso finale quindi 2 a 1 sicuramente negativo ma con il suggerimento di approfondire con test tradizionale io mi documento studio e capisco che il tampone rapido non ricerca il virus come il tradizionale ma l'antigene virale perdonatemi se non entro nel dettaglio tecnico sarebbe un po troppo complicato sia da spiegare che da comprendere ma diciamo solo che c'è una grande differenza di metodo fra i due test quello classico e quello rapido e preciso e questo è un particolare importante che il test rapido è stato comunque validato da una delle strutture ospedaliere in prima linea in italia sulla lotta al coronavirus ciò non di meno rimango fortemente scettico e prego raffaella di considerare i ragazzi positivi fino a tampone tradizionale eseguito quindi isolamento distanza sociale mascherini tutto per tutti l'indomani viene eseguito il tampone classico dopo tre ore e mezza che ripeto il tempo tecnico giusto per eseguire e avere una risposta arriva il risultato tutti e tre positivi chiamo a quel punto immediatamente la responsabile del laboratorio chiedendole i particolari della risposta e cioè la carica virale se fosse stata bassa avere con l'altra metodologia quella rapida un falso negativo poteva essere in qualche modo giustificato ma la risposta è stata la carica virale è elevatissima un po di considerazioni di domande a quel punto mi si sono affollate nella mente la prima è stata ma se non fossi stato diffidente e malfidato e non avessi fatto fare il secondo tampone ora i ragazzi starebbero in giri come liberi untori tranquilli della loro negatività ma invece forti portatori di contagio la seconda conseguenza della prima invece ma quante persone fidandosi del prestigio della struttura che ha eseguito l'esame da cui sono risultati falsamente negativi e attualmente in giro a propagare il contagio sappiate che il prestigio locale di quella struttura è tale che chiunque si fida del loro operato quindi nessuno ne mette in dubbio evidentemente alla luce dei fatti sbagliando clamorosamente la loro affidabilità terza considerazione ma stiamo parlando dello stesso test che viene fatto negli aeroporti a questa domanda la risposta c'è e ve la posso dare subito sì è lo stesso e quindi quanti falsi negativi girano a questo punto in italia a rientro dalle vacanze ora è giusto dire che in tutti i test i falsi negativi ci possono essere così come ci possono essere anche i falsi positivi questo è un dato scontato l'affidabilità non è mai assoluta bisogna però capire qual è la percentuale di questi errori sia degli uni che degli altri perché in questo caso ad esempio un falso positivo evidentemente non fa danni ma un falso negativo sì e danni importanti ora averne tre su tre consecutivi è un dato che vi posso garantire fa tremare i polsi soprattutto se all'indagine definiamo la classica la carica virale di quei tre casi risulta essere elevatissima se fallisce in una condizione del genere che affidabilità può avere questo test rapido sappiate che nel nostro mestiere avere un tre su tre consecutivo errato non significa avere il triplo di uno ma significa mettere in discussione la validità e l'affidabilità del test stesso che necessita quel punto di numeri importantissimi di sperimentazione per diluire quel valore di errore registrato veniamo allora partendo da un'esperienza personale al discorso di ordine generale di salute pubblica la premessa è che la grande sciocchezza non italiana ma europea è stata quella di riaprire le frontiere e fare un tana libera tutti in maniera indiscriminata e senza regole e questa affermazione non la faccio oggi alla luce di quanto sta accadendo ma l'ho fatta e non perché sono un veggente ma solo perché studio i numeri a disposizione circa due mesi fa sottolineando tra l'altro come la bomba ad olorogeria fosse la spagna e chi mi segue lo sa commesso l'errore si è avuta una inevitabile recrudescenza importante dei contagi questa recrudescenza ha messo in evidenza l'impossibilità di controlli efficaci ma come fai a fermare in aeroporto migliaia di persone al giorno e quindi si è trovato un escamotace il test rapido che a mio avviso se questa è la sua affidabilità è molto più pericoloso del non fare nulla so che la reazione naturale è quella di dire ma allora perché non si fanno i tamponi tradizionali la risposta a questa domanda è perché non è realisticamente possibile e questo per una serie di fattori che vi vado a elencare uno carenza di macchine due carenza di personale qualificato le macchine che processano i tamponi sono purtroppo poche e allora direte voi compriamone altre beh non è così semplice perché sono tutte di fabbricazione americana e gli stati uniti da quando sono in emergenza così importante per il coronavirus non ne mandano all'estero più nemmeno una e quindi dobbiamo arraggiarci con quelle che abbiamo e poi non si devono rompere e non devono finire i kit di reagenti senza macchine si passa al sistema manuale che però prevede personale che sia competente in biologia molecolare ma di questo di questi specialisti non ce ne sono molti anzi ce ne sono pochissimi in buona sostanza nella regione lazio la mia regione giusto per dare dei numeri di riferimento certi di una regione importante si possono processare non più di 6.000 tamponi al giorno evidentemente molto meno delle persone che atterrano a fiumicino ogni giorno e poi non bisogna dimenticare che ci sono tante altre persone a cui devono essere fatti i tamponi quotidianamente sto mi sto riferendo ad esempio a quelli che devono essere sottoposti ad intervento chirurgico solo nel mio istituto almeno 100 pazienti al giorno moltiplicate ora questo numero per il numero di ospedali che ci sono in giro e vedrete che si arriva molto velocemente a dei numeri altissimi tengo peraltro fortemente a precisare questi 6.000 test al giorno possono essere fatti solo grazie all'incessante e preziosissimo lavoro dei laboratoristi e dei biologi impegnati in prima lina da tanti mesi e a cui spessissimo non viene detto nemmeno un grazie quindi per il poco che vale approfitto per ringraziarli io in sintesi da tutto quello che vi ho detto si può evincere che l'equilibrio per la sostenibilità del sistema si rompe ancora prima di cominciare non sono belle notizie ma mi sembrava giusto che le sapeste tutti perché è l'attenzione di ognuno di noi che può far sì che la situazione non degeneri drammaticamente la grande fortuna è che la forza del virus si è ridotta in maniera pazzesca e questo fa sì che al numero altissimo di contagiati non corrisponda un numero altrettanto significativo di pazienti critici faccio un appello quindi a chi è rientrato dalle vacanze in generale ma soprattutto a coloro i quali sono rientrati da zone e paesi ad alto rischio e con presenza di focolai e che ha fatto il test veloce in aeroporto che la risposta sia stata positiva o negativa non fidatevi del risultato e contattate le vostre ASL di appartenenza per fare il tampone pcr classico e mi raccomando in altesa del tampone siate saggi buona giornata a tutti e arrivederci al prossimo video